Manca poco al quarantesimo compleanno di una delle showgirl più belle apprezzate di sempre. Stiamo parlando di Martina Colombari, che il 10 luglio è pronta a spegnere 40 candeline e che ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista rilasciata alla stampa, parlando dei suoi esordi di stile e rivelando anche un piccante segreto. Il tailleur può fare professoressa, dichiarata a proposito del look, coi jeans skinny invece rischi di fare studentessa. Il lato più sexy di sé lo riserva chiaramente al marito Billy Costa Curta. L'altra sera ho indossato una gonna di pizzo della perla, raccontato. Billy mi ha chiesto dove andassi vestita così e io ho risposto che tanto ero con lui. Ho un dragone nello stesso punto del corpo in cui vola la farfallina di Belen, ha poi aggiunto, ma a differenza della Rodriguez non l'ho mai mostrato se non a mio marito.